In particolare ci sono alcuni sacerdoti o uomini di Dio che hanno dei carismi speciali che hanno esercitato per tutta la vita. I frutti sono stati da quello che sembra buono, in particolare c'è il padre Dardiffe che adesso hanno aperto anche la causa di santificazione. Vivo ancora c'è questo padre Roberto De Grandis che comunque da quello che ho potuto sapere vedere i frutti sono buoni. Sì, è sicuro che è vivo? Da quello che sapevo io era vivo, sì. Certo dovrebbe avere una bella età, grazie pure del mondo. Buongiorno, mi faccio bene. Poi oggi in particolare invece prenderò spunto per questo argomento da alcune frecciate che mi sono arrivate mentre leggevo questo libro e lui, questo autore si chiama Serafino Falvo lui è un sacerdote con un grande dono di Spirito Santo e oggi in particolare Gesù vuole che parliamo del... lui lo chiama carisma di guarigione in realtà San Paolo parla di carismi di guarigioni al plurale questo è molto importante sottolineare anche perché praticamente non esiste soltanto un carisma di guarigione ma esistono carismi di guarigioni ad esempio quando Gesù nel Vangelo a un certo punto guarisce i malati e libera gli indemoniati l'autore dice proprio guarì molte persone guarì molte persone dagli spiriti cattivi parla di guarigione quindi il carisma di liberazione in qualche modo è un carisma è un tipo di carisma di guarigione però la guarigione è particolare perché guarisce dagli spiriti cattivi quindi da ciò che possono procurare gli spiriti cattivi dalla possessione, dalla vessazione dall'ossessione, dall'infestazione tutte le varie cose che insieme non vengono insomma gli esorcisti poi questo però è più legato alla liberazione dagli spiriti invece la maggior parte dei carismi di guarigione sono legati di solito a guarigioni che possono essere di tipo spirituale per esempio Padre Dio aveva un carisma di guarigione straordinario in particolare legato al sacramento della confessione che la Chiesa dice chiaramente nel Catechismo che è un sacramento di guarigione e quindi lui aveva un carisma per guarire in particolare le persone dal peccato e lui aveva il dono di portare le persone a un pentimento perfetto quindi anche il pentimento significa quando una persona si pente vuol dire che sta in salute e quando ha poco pentimento vuol dire che ha in qualche modo un po' un'infermità nel pentimento e Padre Dio aveva il carisma straordinario considerate che a un certo punto per obbedienza le confessioni di Padre Dio duravano dai 3 ai 5 minuti quindi non è che Padre Dio si metteva lì che ne so un'ora e mezza eppure avvenivano conversioni straordinarie da quelle testimonianze che sono state cose quindi immaginatevi che carisma poi si è visto dai frutti lui aveva anche altri carismi di guarigioni come quello di liberare dai demoni quello di intercedere per la guarigione delle malattie un po' tutte perché Padre Dio di solito i ministri di guarigione hanno un ambito specifico che Dio gli dona per la guarigione che può essere l'ambito delle ossa dei tumori delle leucemie invece ci sono delle figure che invece Dio mostra in loro un'abbondanza particolare perché in qualche modo la loro preghiera fa scendere la misericordia di Dio su varie situazioni e quindi ecco c'è la guarigione di tipo spirituale che è quella che per esempio vediamo in Padre Dio e vediamo in Lui poi c'è la guarigione di tipo interiore che invece è legata è legata possiamo dire così in generale può essere legata a delle mancanze di amore poi queste mancanze di amore si possono manifestare che ne so da grandi da piccoli in tante situazioni però la guarigione interiore di solito significa che l'amore di Gesù se ci sono delle ferite guarisce che le ferite sono come immaginiamoci che le ferite in un terreno sono come dei vuoti dei solchi si fanno delle crepe nel terreno quindi si fa un vuoto e allora dato che si fa un vuoto succede che quel vuoto dato che l'essere umano è fatto per essere riempito non è fatto per essere svuotato allora di solito che riempie l'essere umano è Dio e quando c'è una ferita in un certo ambito della vita in quell'ambito si fa come un piccolo o medio insomma una certa misura di solco di vuoto e dato che nel vuoto qualcuno cerca di infilarsi può succedere che se quelle ferite non vengono non vengono toccate dallo Spirito Santo non vengono riempite e seggillate da Lui quindi li portate ad essere un terreno fertile ma non un terreno con le grebbe ma un terreno fertile quindi piano che è pronto per essere seminato no? e invece quando ci sono queste grebbe ci sono dei buchi tra piccolette e questi buchi se non li riempie Dio se non vengono avanti buongiorno buongiorno passi bene eh sì 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 allora queste queste ferite appunto sono come queste questi solchi che si possono trovare queste crepe più che solchi crepe che si possono trovare nei terreni e se non vengono appunto toccati dallo Spirito Santo e guariti da Lui può succedere che come un contadino che va dice adesso io vado da seminare oggi è il tempo della semina e non solo il contadino per seminare deve aver torto prima le erbacce e questo lo fa appunto magari appunto la confessione quello che potrebbe essere no? e ma a un certo punto potrebbe succedere che se il contadino non ha non ha non si rende conto di come è fatto il terreno se ci sono crepe o no in una crepa potrebbe trovare una serpe magari se c'è una crepe e un sasso sopra magari sotto si può nascondere un serpente perché praticamente il serpente proprio perché il serpe cerca di andare a riempire i vuoti il serpente si infila nei vuoti perché è serpe è proprio la sua caratteristica allora per questo è importante un carisma che è un carisma di guarigione per le ferite interiori perché guarire le ferite interiori significa riportare il terreno crepato ad essere un terreno invece integro e fertile pronto per essere seminato e per portare frutto in realtà che dobbiamo fissare qualcosa che se no c'è il vento ancora il vento si metti dietro metti lì o di qua vicino a quella terra se no fai dietro oddio più alta ci arriva l'altro che lo faccio o c'è le sedie stanno strette quindi ruprai di là o ti metti laggiù un altro tipo di guarigione è quella dalle ferite quindi la guarigione è chiamata guarigione interiore naturalmente quando si parla di guarigioni si intende che Dio può guarire sia direttamente attraverso una preghiera ma può guarire anche attraverso la mediazione per esempio di medici non a caso ogni medico di per sé ha un carisma di guarigione il medico proprio perché è medico ha un carisma di guarigione poi come tutte le persone possono avere dei talenti e quindi possono decidere di usarli come vuole Dio tutte e cinque oppure c'è stato esempio che è ateo le usa secondo quella che è la scienza la cosa ma non fa riferimento a Dio e quindi magari dei talenti usa quello diciamo che si può usare a livello naturale però di solito ogni medico ha un'autorità che gli dà Dio proprio perché è medico per esempio per fare delle diagnosi e dare delle terapie e quello è un esercizio legittimo che gli dà Dio sempre secondo le regole morali di Dio insomma della Chiesa perché Dio la medicina l'ha data per fare bene all'uomo non per manipolarlo quindi sempre secondo gli insegnamenti di Cristo però ogni medico ha un carisma di guarigione questo si vede in certe figure in particolare come San Giuseppe Moscati lui diceva addirittura che il medico ha due angeli un angelo personale e uno che serve per gli altri per il servizio da medico per fare diagnosi perché lo illumini perché il carisma di guarigione funzioni bene perché la diagnosi è fondamentale ecco quindi se il medico sbaglia la diagnosi può sbagliare cura la terapia e allora ecco questo è molto importante quindi Dio di solito può guarire direttamente usa usa praticamente dei sì diciamo dei mediatori tra virgolette l'unico mediatore è Gesù però poi alla mediazione di Gesù partecipano gli uomini tanto quanto vuole Dio non partecipano soltanto con la preghiera ma partecipano anche con loro operare e anche con loro soffrire il catechismo dice noi partecipiamo alla provvidenza di Dio attraverso la preghiera la sofferenza e le azioni quindi la mediazione non è soltanto nella preghiera ma è anche nelle azioni e anche nell'offerta della sofferenza quindi questo è molto importante un canale di guarigione per esempio vi faccio un esempio molto importante questo è per quanto riguarda la guarigione interiore poi esiste la guarigione di tipo invece fisico e questo praticamente è un carisma uguale sempre di guarigione particolare proprio perché il frutto è che sana il capolavoro di Dio perché se noi ci pensiamo bene l'importanza del corpo il corpo è quello che Dio ha fatto nell'ultimo giorno della creazione ha fatto le piante ha fatto animali ma niente è importante tra le cose create come il corpo dopo l'anima dopo l'anima che Dio ha dato che è la cosa più importante il corpo dell'essere umano è il Tempio è il corpo che è chiamato ad essere Tempio dello Spirito Santo i corpi degli animali non sono chiamati ad essere Tempio dello Spirito Santo non vengono unti non vengono battezzati sono rispettabili come creature di Dio ma c'è una bella differenza tra essere creature di Dio o figli di Dio c'è una bella differenza allora il corpo è molto importante è il capolavoro di Dio che è uscito nell'ultimo giorno dalle sue mani direttamente è lui che ha creato l'essere umano anima e corpo e che crea e quindi è molto importante tutto ciò che è legato alla sfera del corpo è importante perché la medicina in particolare si occupa di questo però il Signore non ha dato soltanto la via medica ma ha dato anche l'autorità spirituale che è data anche ai medici nel loro ambito ogni medico ha un'autorità spirituale infatti se se per esempio io vado da un medico è un medico scienzioso bravo e mi dice di fare delle cose io posso credere che è Dio che mi dice di farle perché ha un'autorità per farle quindi questo è molto importante no? e e quindi insomma non a caso non a caso il Signore benedisce benedisce anche la scienza medica e tutto ciò che è fatto secondo la sua nota per il bene dell'essere umano però il Signore ha dato anche un'autorità che è sempre l'autorità di Cristo che è partecipata ai medici ma viene partecipata per esempio in maniera speciale nel Vangelo agli Apostoli allora quando si dà il mandato apostolico nel Vangelo ci dice proprio chiaramente che Gesù li chiamò a sé diede loro potere sugli spiriti immondi e il potere di guarire tutte le malattie questa è una cosa è il mandato di Cristo il Padre ha mandato Gesù a evangelizzare a far conoscere e amare appunto il figlio e il Padre perché si abbia la vita eterna infatti si dice questa è la vita eterna conoscere il Padre quello che il Padre ha mandato questa vita eterna quindi il San Giovanni dice noi abbiamo visto la vita eterna perché abbiamo visto Gesù e allora ecco l'autorità di Cristo a un certo punto Gesù dirà mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra allora questo potere Gesù lo partecipa in maniera diversa secondo le chiamate secondo le vocazioni ma lo partecipa a tutti e gli apostoli in particolare hanno hanno proprio per chiamata hanno questa missione hanno la missione di evangelizzare di cacciare i demoni e di guarire i malati imporranno le mani malati e questi guariranno questo significa che ogni vescovo l'apostolo in particolare sono i vescovi certo il Papa per eccellenza e poi i vescovi di per sé sono gli apostoli e sono i successori degli apostoli allora qua bisognerebbe pregare qui bisognerebbe pregare perché veramente ogni vescovo potesse veramente non solo credere in quello che ha ricevuto perché sicuramente lo sa che è un vescovo ma lo potesse esercitare perché io ragionavo stamattina io vescovi che pregano per guarire i malati io li ho visti per esempio il venerdì santo quando si fa la grande supplica e si chiede che il mondo sia liberato dalle malattie dalla fame dei flagelli ho visto vescovi che lo fanno durante la messa perché da ci mancherebbe altro ma vescovi che veramente sviluppano un ministero di guarigione che è la chiamata e allora Gesù dal padre ha ricevuto una missione poi questa missione Gesù dice io salgo al cielo e mando voi ma questa missione c'erano in particolare i vescovi cioè ogni vescovo da quello che dice la sacra scrittura c'ha un'autorità tale da parte di Gesù che ha un potere per la guarigione dei malati e per la liberazione dei demoniati non a caso il vescovo solo per perché il vescovo è esorcista non è che ciò deve fare qualcuno è lui tant'è vero che è mandato agli esorcisti dal vescovo lui è esorcista per ordinazione vescovole quindi è così e poi c'è anche il potere di guarigione cioè io da quello che mi risulta al mondo vescovi che praticano un ministero di guarigione diciamo completo in parte lo fanno come vi ho detto ma completo che veramente impongono le mani fanno preghiere di guarigione sulle persone o vanno negli ospedali a pregare io sinceramente ne conosco soltanto alcuni e questo secondo me è una è una perdita enorme sempre con massimo rispetto per il vescovo però è veramente una perdita enorme perché cioè io penso che tantissime persone guarirebbero dopo la preghiera degli apostoli dei vescovi perché lo dice il Vangelo ne godivo io quando Gesù manda e dice proprio dopo un qualunque casa entriate guarite i malati che ci si trovano certo non dice soltanto visitarli dice guariteli ok poi si probabilmente in difficoltà si ma i cardinali in questo caso i cardinali no il cardinale è una cosa è un riconoscimento diciamo è una carica ecclesiastica ma il cardinale è un vescovo certo quindi va nel discorso dei vescovo va nello stesso sì 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 e a volte non ci credono nemmeno loro diciamo beh noi noi presumiamo diciamo che ci credono no il problema non è quando ci credono il problema è che poi magari ci credono ma per tanti motivi non lo esercitano perché ci sono pochi esorciste per quanto serverebbe allora quello degli esorcisti è un aspetto ma anche soltanto se facessero le preghiere di guarigione un vescovo ha un'autorità enorme enorme cioè nel senso c'ha un è un qualcosa la benedizione di un vescovo io nel libro di Francesco vai a Iuso dice che quando lui scoprì la possessione la moglie lo portò seppe che il vescovo veniva in cattedrale a celebrare con tutti i preti e la moglie lo portò ha detto che alla fine glielo presentarono il vescovo gli chiesse soltanto vabbè pregheremo e vi faremo sapere e lo benedì ha detto che la benedizione gli arrivò come una trampata il demonio si sentì come bastonato c'è una cosa è solo una semplice benedizione l'ha detto che è uscito da chiesa che il demonio l'hanno portato al fondo su forzo praticamente ok quindi per dire solo una benedizione semplice in ogni diocesi il vescovo delega per l'esorcismo allora in ogni diocesi c'è un giocatore che c'è in ogni diocesi il vescovo è la massima autorità e quindi lui dà le facoltà e anche delega però io spero e preghiamo per questo che se vi ricordate negli atti degli apostoli a un certo punto c'erano tante vedove che avevano bisogno del cibo della carità e gli apostoli già facevano più allora a un certo punto Pietro disse non è bene che noi per il servizio delle menze lasciamo il ministero della parola e della preghiera noi apostoli gli apostoli sono chiamati alla parola e alla preghiera preghiera si intende tutto anche preghiera di coagione e la parola si intende all'evangelizzazione compresa l'amministrazione dei sacramenti perché dare i sacramenti è il culmine dell'evangelizzazione ma fa parte dell'evangelizzazione no? e infatti elessero sette persone di buona reputazione e gli fecero di agoni e loro andavano a portare appunto le menze il servizio delle menze facevano allora il vescovo questo vale per i vescovi questo vale anche per i sacerdoti perché poi il sacerdote in maniera perché voi sapete che l'ordine l'ordine sacro c'è sta vescovo sacerdote di apono allora il vescovo ha il carisma apostolico in pienezza il sacerdote ce l'ha sempre sottoposto al vescovo in grado subordinato però è apostolico al stesso modo quindi c'è la stessa chiamata quindi preghiera parola caccia demoni e guarì quindi dobbiamo pregare perché non soltanto i vescovi riscoprano questo ministero ma anche i sacerdoti perché c'è veramente ci sono tante mani sacerdotali consagrate che potrebbero veramente e sono rappresentano le mani di Cristo e sono le mani che in poste ai malati guariscono solo che bisogna sapete per esercitare un carisma bisogna volerlo questa cosa che vi dico oggi è una cosa che insegna la chiesa ma non è una scemenza quando il papa parla ex cattedra cioè che vuole dire una cosa in maniera definitiva come infallibile deve voler esercitare questo carisma che ha non è che dice ah ho detto due cose stamattina ma mi sono ricordato forse saranno infallibili no 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 lui vuole esercitare e lo esercita così il papa certo così un vescovo se crede che ha la missione che gli ha dato Dio deve voler esercitare oltre che il suo ministero di santificare di predicare quello che già fanno i vescovi ma deve dire io voglio esercitare il carisma di guarigione che Dio mi ha dato perché il carisma è come un talento ci può essere ma non è detto che viene esercitato certo ma lì ci vuole la volontà eh lì ci vuole la volontà allora l'essere umano Dio lo tratta da persona e fa parte della dimensione personale che se Dio ti dà dei talenti tu per quello che dipende da te vuoi valorizzarli cioè vuoi esercitarli ma io posso anche dire io lo so che Dio mi ha fatto questo dono però a me sinceramente mo ti dite ma fai file hai fatica te sta ricevendo tutta la gente no no sinceramente perché voglio bene a tutti benedico tutti però mi dispiace ma io te sta tutto il giorno fanno così eh no non so se fanno così però fate un esempio no ti dico che fanno così allora allora ecco perché ricordatevi sempre come diceva Padre Tardif che il carisma per chi ce l'ha è una croce allora per chi lo riceve è una grazia ma per chi ce l'ha è una croce Padre Tardif come dicevo l'altra volta faceva l'esempio che lui aveva scoperto il carisma lo voleva esercitare infatti iniziò a esercitarlo non è che ci ha girato cominciato il carisma va esercitato poi lo Spirito Santo ti insegna come farlo sempre più perfettamente però la prima cosa che vuole lo Spirito Santo è ti ho dato il carisma ti ho dato un talento io spero che tu voglia esercitarlo perché io il talento te l'ho dato per metterlo a frutto nemmeno qui lo impone no no Dio non impone niente a parte i comandamenti i comandamenti che se sanno ma Dio di solito ordinariamente lascia lascia l'uso delle cose alla responsabilità come dice è affidato la creazione all'essere umano gli dice quello che deve fare ma poi lascia la cosa alla libertà della persona però Dio lo dice quello che si deve fare non è che fa un gnorri che dice chissà che si è trattato a quella cosa no no dice chiaramente praticamente quello che si deve fare quindi però l'essere umano può essere vi faccio un esempio il sacerdote ha il dono di celebrare la messa di consacrare ma io posso tranquillamente io ho conosciuto dei sacerdoti che mi hanno detto chiaramente che loro celebravano domenica in altri giorni non c'è l'obbligo della messa quotidiana no non c'è l'obbligo perché l'obbligo c'è per il breviario ma per la messa è lasciata praticamente al sacerdote no? la cosa più che un sacerdote ha perché praticamente la chiesa nel breviario delle breviarie della chiesa ha dato al sacerdote una fonte di grazia e di protezione che può fare sempre basta che c'è il breviario e poi puoi leggere da qualunque parte la santa messa richiede qualche cosa in più anche per essere celebrata magari tu non hai appresso il pane e il vino quando stai che ne so però c'è il breviario diciamo è sempre la preghiera che assicura la protezione della chiesa la comunione con la chiesa la potenza della chiesa e che tu sia ministro della chiesa poi la chiesa ma non è che ti preoccupare la messa è nati no no consiglia fortemente di dirla sempre perché appunto è come dice il concilio è fonte e culmine di tutte le grazie però io ho fatto esempio per farvi capire che se un sacerdote gli è lasciata la libertà per assurdo a parte la domenica che è comandata la messa certo ma per i dati giorni è lasciata la sua carità no per dire che cosa più mette in mano agli esseri umani cioè è come un medico il medico può avere delle conoscenze delle competenze importantissime ma come accade in certe nazioni si può arrivare al punto che se una persona ha quelle malattie però non ha i soldi per pagare la persona si more certo cioè non è che si scherza eppure il talento ce l'ha il medico però si può arrivare al punto di dire e lo so c'è questo mi dispiace tanto però a me il 5 mila euro non li puoi tacciare e a me mi dispiace io l'operazione non te la faccio e renderanno conto a Dio credo e io credo però quello diciamo per far capire che ogni essere umano ma questo vale anche per una madre scusi per essere giudato è come per una madre scusi mi occupo solo la domenica della famiglia no anche facevo proprio questo esempio allora è come per una madre la madre ha un dono specialissimo di maternità ma la madre può anche decidere che fa il sufficiente per i figli ma lei non vuole rinunciare a alcune cose della sua vita quindi quando serve i figli se serve li lascia pure magari con altri o speriamo che li lascia pure soli praticamente perché uno può decidere come essere madre non è che c'è stato stampino e tutti quanti agiscono come roba no nel senso c'è la libertà naturalmente Dio chiede che si faccia bene la madre il sacerdote è tutto non è che dice però questo per far capire che quanto è importante ricevere un'autorità da Dio autorità intesa come dono fatto dallo Spirito Santo quindi è un potere che è il potere dello Spirito Santo che viene partecipato agli esseri umani ma il potere è dello Spirito Santo lui lo partecipa agli esseri umani e in particolare nei carismi di guarigione lo partecipa a tutte le figure ma in particolare ci sono delle figure che avrebbero proprio un carisma speciale per gli altri come il vesco o il sacerdote no e allora e oggi seguendo un po' don Serafino perché veramente ci sono delle cose che sono veramente interessanti lui dice affronta questa cosa qui comincia a parlare del carisma delle guarigioni imporranno le mani insularate e questi saranno guariti e poi lui comincia a affrontare in maniera semplice ma chiarissima tutti i vari aspetti lui dice sono stato per tanti anni parroco e ho visitato centinaia di ammalati ma non ho mai avuto la presunzione di poterli guarire con l'impossessione delle mie mani sentite la presunzione e invece in realtà è il mandato che che riceve il sacerdote ma proprio riceve c'è scritto nel no avevo letto tante volte queste parole ma non avevo mai potuto lontanamente immaginare che potessero riguardare anche me quando entrai nel rinnovamento carismatico e mi si disse che entro quei gruppi di preghiera avvenivano delle continue guarigioni ancora non me ne facevo convinto ma poi cominciai a vedere con i miei occhi e non potei più negare l'evidenza incoraggiato da quel che facevano gli altri osai anche io imporre le mani su una giovane signore affetta dall'ucemia i medici le avevano dato non più di due mesi di vita mi confessò che mentre pregavo su di lei sentì come un fuoco in tutta la persona e come un elettroshock che la scuotesse da capa a piedi la sera stessa si sentì meglio pochi giorni dopo i medici la dichiarano completamente guarita ora è sana e vegeta e si gode le gioie della famiglia oggi a distanza di tre anni io posso dire di aver visto tanti e tanti altri casi simili che non fanno altro che confermarmi sempre più quanto Gesù sia fedele alle sue promesse ma anche i laici possono avere dei carismi che possono imporre le mani no no non solo i laici possono avere dei carismi ma ce l'hanno perché San Paolo dice che ognuno riceve una manifestazione particolare dello Spirito Santo allora gli esempi che ho fatto io sono di persone che hanno proprio per il ministero ma ogni persona può ricevere un carisma di guarigione e lo Spirito Santo soffia dove vuole però bisogna sempre ricordarsi che lo Spirito Santo i carismi li dà per la gloria di Dio e l'edificazione della Chiesa e per il bene comune quindi li dà sempre con un fine di amore sempre perché si conosca e si ami Gesù nessuno si può appropriare dei doni di Dio i doni sono lo Spirito Santo e bisogna farli come dice lui non come poi dopo allora che cosa quando decide lui anche sì anche no le guarigioni il dono dello Spirito Santo no no ma pure le guarigioni anche sì anche no bisogna far accettare la volontà di Dio no no la volontà di Dio è la prima cosa e adesso il Signore ci farà ci porterà a scoprire come bisogna di sforzi per ricevere tutte le sue promesse perché come per fare la comunione bisogna aver fatto un'ora di digiuno stare in grazia e sapere che si riceve allora Dio opera come gli pare e fa come gli pare ma ordinariamente non è che lui è vincolato ai nostri modi di pensare lui è libero e ogni potente fa come vuole però ha deciso dato che è sapiente che come un terreno deve essere ben disposto per ricevere dei semi così un'anima deve avere delle disposizioni che gli fanno ricevere il dono dello Spirito Santo in tutte le sue forme guarigioni liberazioni così adesso vedremo proprio precisamente allora la prima cosa lui affronta una cosa molto molto ci sono alcune parti vediamo leggere che sono troppo simpatiche lui dice capitoletto intitolato le malattie non vengono da Dio ecco questa cosa è importantissima lui dice questa cosa se può pure è talmente breve e coinciso poi ve la spiego tutti i buoni e cattivi chiamano Dio in causa quando hanno qualche malattia i cattivi ne incolpano Dio e bestemmiano e impregano contro di Lui i buoni non impregano ma accettano ad assegnare le malattie come prove o addirittura come doni di Dio ecco alcune espressioni che si colgono sulla bocca di quest'ultimo il Signore mi ha mandato questa malattia sia fatta la sua volontà il Signore ha voluto castigarmi mandandomi questa malattia il Signore vuole che io espimi i peccati con questa malattia accetto questa infermità per la gloria di Dio il Signore manda le malattie ai buoni le malattie sono un segno di predilezione da parte di Dio le malattie sono benedizioni del Signore dunque è sempre Dio l'origine delle nostre infermità diciamo subito che questo è un concetto errato per non dire blasfemo sono idee e concezioni prese dal platonismo o dallo stoicismo o dal manicheismo che si sono infindate nel cristianessimo e nel misticismo e nel medioevo ma non hanno alcun fondamento nella Sacra Scrittura Dio non è causa delle nostre malattie non può esserlo le malattie sono un male nessun male può venire da Dio e fa l'esempio bellissimo qua dice entriamo in una famiglia qualsiasi dove c'è un giovane ammalato tutti padre madri fratelli sorelle sono affitti addolorati e Dio solo dovrebbe essere contento adesso arriviamo anche a questo entriamo in un ospedale medici e infermieri si fanno a pezzi per alleviare i dolori dei pazienti e solo il Signore dovrebbe godere per quelle sofferenze il nostro corpo è il capolavoro uscito dalle mani di Dio nell'ultimo giorno della creazione e come potrebbe Dio rallegrarsi a vederlo distruggere ecco questo è molto importante cioè primo è come un artista che fa un quadro meraviglioso poi dice spacco tutto Roberto alla fine è il Signore sempre che permette no? si che accadano quelle cose io sono arrivata a distruggermi completamente ho detto il male non è il Dio però il Signore permette no no ma tanto adesso arriviamo queste cose partiamo da questo per arrivare a affrontare diciamo poi le varie cose Dio è padre che ama i suoi figli di un amore infinito e come può un padre così buono essere felice nel mandare i figli all'ospedale o quando li vede straziati sul letto di dolore questo è forte come contate mandare all'ospedale non c'è un solo passo della scrittura da cui si possa provare che le malattie vengono da Dio c'è anzi il contrario nel Vecchio Testamento non si può ancora trovare bene sviluppato il concetto di Dio come padre ma predomina l'idea di Dio il Dio della legge che premia e castiga ora l'osservanza della legge viene premiata con delle promesse di una vita sana e longeva mentre le malattie vengono considerate come tristi effetti dell'infedeltà alla legge ecco qualche esempio se tu veramente ascolterei la voce del Signore Dio farai quello che retta gli occhi suoi porgerai orecchie ai suoi comandamenti osserverai i suoi statuti io non ti colpirò con nessuna delle piaghe con cui ho afflitto gli egiziani perché io sono il Signore colui che guarisce di Mosè leggiamo quando morì aveva centoventi anni tuttavia la vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno i salmi sono pieni di promesse di assistenza per una vita lunga e felice egli ti sazia di beni per tutti i tuoi giorni rinnova la tua gioventù come quella dell'Aquila nessun accenno dunque alle malattie come peredizione di Dio anzi tutto il contrario a servi fedeli Dio promette vita lunga sana e felice questi sono sono praticamente l'Antico Testamento poi questo che sto leggendo non nega tutto quello che ci insegna Gesù i Santi non ci arriveremo poi come si conciliano queste cose però lo Spirito Santo vuole ribadire che certo che la malattia Dio la può permettere magari come perché sei un'anima vittima quindi tutto quello che insegna la Chiesa per carità ci mancherebbe però lo Spirito Santo vuole ricordare che queste cose sono delle eccezioni che confermano la regola ma la regola è quella della guarigione invece che cosa succede che con questo tipo di espressione si fa apparire che la regola è che Dio deve andare all'ospedale no? e ogni tanto te pure guarisce invece non è così ecco parliamo proprio di Gesù qua dice egli è il Dio della vita e tutto ciò che vive dà gloria a lui non ciò che muore egli preferisce i sacrifici di lode più di quelli di bestie sgozzate in Isaia fa già capolino l'amore di Dio come padre può forse una mamma dimenticare il suo figlio letto non avere compassione del frutto del suo seno ma anche se essa lo dimenticasse io non potrò dimenticarmi di te Gesù sarà ancora più esplicito e qual è quell'uomo fra voi che darà una pietra al suo figlio che gli chiede un pane o se chiede un pesce gli darà una serpe se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro celeste concederà cose buone a coloro che gliele chiedono e tra queste cose buone non può non esserci la sanità fisica il padre dà soltanto cose buone ai figli ma le infermità non sono cose buone anche quelli che in teoria le chiamano benedizioni di Dio in teoria in pratica poi corrono dai medici e prendono medicine per eliminarle così facendo non si mettono contro la volontà di Dio e non lottano per togliersi di dosso le sue benedizioni questo è vero io questa sofferenza è un dono di Dio allora se è un dono perché pota voleva scusa chiedela no no però dal medico ce vai e allora vuol dire che c'è qualcosa o te vuole le benedizioni di Dio no oppure vuol dire che abbiamo capito male che Dio è Padre ma non è Padre dando le tramvate non si può concepire un Padre guardi Don Serafino è molto però lui l'ho conosciuto è un uomo di Dio è morto santamente e quindi per questo non si parlo perché la morte è stata buona quindi non è uno che alla fine è nato parla tangenziale ecco non si può concepire un Padre che può fare i figli felici e non lo vuole ogni Padre è veramente felice quando i figli sono felici con Lui questa è la cosa vera cioè ma a me che Dio mi dici tutte ti voglio tanto bene ma poi felice ci sono solo io allora c'è qualcosa di strano no? perché io sono venuto perché abito la vita e l'abbiamo in abbondanza e proprio c'è solo Davida perché l'altro tutti all'ospedale stanno allora c'è qualcosa che abbiamo capito male noi non è che Dio ci mancherebbe Dio brama di darci una felicità piena completa perfetta più di quanto lo bramiamo noi stessi e noi dobbiamo fare quest'altra parte perché è di un'importanza come so 45 40 e però se me lo dite siete stanchi però è troppo è di un'importanza guardate a un dieci e mezza devo andare a un dieci e mezza non finiamo perfetto le malattie provengono dal peccato e dal demonio qua è molto importante questo passaggio le malattie sono per sé un male e quindi come ogni male possono avere origine solo dalla fragilità e mancavolezza dell'uomo oppure dall'azione di colui che è il maligno per eccellenza Satana tutti i mali vennero come conseguenza del peccato originale questa è una cosa di fede questo lo insegna la chiesa la chiesa insegna che tutti i mali compresa la morte il peccato la malattia sono scaturiti per il nido del demonio che ha fatto peccato la medeva quindi la peccata prima non c'erano un'altra cosa che aggiunga Don Serafino Don Serafino dice pure quelli che dicono che le malattie sono la benedizione poi vanno dal medico io ne dico una in più San Paolo dice noi abbiamo ricevuto tutte le benedizioni del cielo quindi in cielo ci sono tutte le benedizioni allora se la malattia fosse una benedizione starebbe pure in cielo ma non mi risulta che chi va in cielo si ammala anzi sono sani in cielo quindi la malattia non è una benedizione perché se no entrerebbe in paradiso Gesù c'è entrato con le piaghe in paradiso ma con le piaghe gloriose non quelle dei iodi cioè che gli sanguinavano ancora ma quelle gloriose c'è entrato con la guarigione in paradiso con la risurrezione quindi tutto le malattie adesso adesso ne parliamo proprio per spiegare bene come insegnare a Chiesa perché bisogna avere come diceva il giusto equilibrio fra il valore della guarigione e il valore della sofferenza offerta però in questo momento mi sembra che si conosca più il valore della sofferenza offerta ma si è quasi perso di vista il fatto che Dio ha fatto un capolavoro dando il corpo all'uomo e quel capolavoro Dio non vuole che si distrugga tant'è vero che la Chiesa condanna chi uccide i bambini dal concepimento se l'anziano è tutto quanto distrutto gli dice che va rispettato fino alla fine pure se c'è un corpo tutto piegato poi no invece gli altri poi non sono stati malati tutti no ma non può essere come cosa c'è qualcosa che non è Dio che dice questo l'uomo per donno gratuito di Dio non avrebbe dovuto conoscere le infermità i dolori e la morte vabbè fu a causa della prima colpa questo l'abbiamo detto a causa del peccato originale tenero tutti mali qua si dice una cosa importantissima ma che è vera lo insegna la chiesa questo quindi anche quando diciamo che le malattie avvengono per cause naturali l'origine ultima è sempre il peccato originale e quindi indirettamente satana questo è importante perché la medicina i medici sono carismi di guarigione perché in realtà Gesù attraverso loro sta a vincere satana che ha dato la malattia per questo il medico bisogna pregare prima di andare dal medico prega per lui offre sacrifici dispiazioni perché Dio lo illumina e attraverso lui vince satana vince quello che satana ha fatto col peccato originale facendo scaturire le malattie alla morte quanti medici nella vita hanno vinto tantissime volte satana hanno guarito malattie salvato persone dalla morte qua al pronto soccorso arrivano persone le operano e si salvano la vita quel medico è stato strumento di Dio e ha vinto le conseguenze del peccato originale Cristo ha vinto attraverso il medico poi quando Dio decide che la persona va in paradiso è la vittoria definitiva perché lanza malacchio e tutto quanto però ordinariamente Dio vince pure su sta terra anche se il medico scusa anche se il medico non è un credente allora il collaboratore di Padre Pio Sanguinetti era ateo e quando lei gli disse ma io non credo in Dio e lui gli rispose ma Dio crede in te allora se un medico è coscienzioso ed è una persona onesta poi se non crede ci fosse un estremo di fare a volte non hanno manchi insegnato però se è una persona veramente onesta che non fa per sordi ma fa il medico guardate ognuno deve stare nel ruolo che Dio gli ha dato allora se il medico fa il medico bene è uno strumento di Dio e ci sta poco da fare poi se lo fa cristianamente è ancora meglio e Sagio San Maria diceva l'evangelizzazione del medico è la competenza cioè un medico evangelizza se è competente perché io posso andare da un medico e c'è rosario in mano ma poi non è competente ma ammazza ma ammazza magari il figlio capito? non è molto che volevo dire nei casi di malasanità o dei medici che ti ammazzano oppure uno va lì per una cosa e ne esce con una cosa allora io qua dico una cosa importante una volta che abbiamo scoperto questa importanza dei carismi considerate che in ospedale non so quanti medici ha ma ognuno ha un carisma di guarigione è una cosa proprio così allora immaginatevi Satana come vuole che invece che Cristo affermi la vittoria attraverso la medicina vuole invece vince lui Satana e allora cerca di distrarre i medici di farli sbagliare e così via ecco perché bisogna pregare i medici prima di andare da loro perché devo pregare perché Signore fa che sia per me uno strumento di Dio perché può essere anche il strumento di quell'altro ma questo capita anche nei confessori San Vincenzo De Paoli diceva che il confessore troppo duro diventa uno strumento del demonio perché praticamente è talmente duro che praticamente alla fine la gente invece d'accoglio avvia diventa strumento di quell'altro allontanare le persone da Dio invece di avvicinarle quindi questo è molto importante perché l'autorità se la usi bene è una benedizione ma se la usi male è annatrambata arriva allora quindi sta a noi pregare sempre per qualsiasi cosa che no una volta che noi capiamo questo si capisce come la sanità sia tanto attaccata dal demonio poi lo fa indirettamente o indirettamente attraverso le persone ma perché tanti scandali nella sanità tante corruzioni perché il demonio cerca di svuotare il più possibile i carismi di guarigione che Dio semina guardate che ci sono dei medici bravissimi soltanto da volte non possono neanche operare perché non ci hanno risorse non ci hanno mezzi ma se potessero esercitare come Dio gli ha fatto capire potrebbero diventare degli strumenti straordinari di Dio invece il demonio che fa magari è un strumento che doveva la vecchia perché ha fatto quell'altro ha fatto la mazzetta ecco il cavo che ha lo strumento cioè cerca è come se facesse avere un'emoragia la sanità in maniera tale che poi la sanità è langue e alla fine invece sembra Cristo risorto sembra coso Don Quixote tutti i protocolli poi sono impreghiati nei protocolli che gli fanno seguire quindi molti medici spesso come dici tu non possono liberamente come molti esercitare io conosco un po' io sono venuta a San Marino perché è a Milano dove lei stava il protocollo per questo il protocollo per quell'altro mi favorisce la Milano ci sono per questo bisogna pregare anche perché chi ha la responsabilità abbia il giusto discernimento per quando ci sono dei geni veramente persone che hanno qualcosa da dire abbiano spazio e cioè perché tante volte invece magari i badazzi che passano una persona perché magari che ne so è raccomandata no ma uno che veramente invece avrebbe dei talenti che Dio ha dato per fare bene a tante persone dell'umanità invece non ha no ma per questo la stava insegnando perché praticamente il primo compito del sacerdote del vescovo è quello che si deve dedicare la parola alla preghiera ma la parola significa far conoscere amare il Vangelo le verità continuate del Vangelo perché è la verità che fa liberi la verità fa liberi prima delle preghiere la verità fa liberi no perché se uno fin da bambino ma che perché a dire la preghierina prima che vada al medico certo è come la preghierina prima di partire la macchina sembra una scemenza ma tu chiedi la protezione Dio ti protegge non è una scemenza io in oncologia ho visto la disumanità sì quella è l'altra me ne stanno chiedendo scusa adesso perdono ho detto io di miracolo chiedevo a Dio non a voi a voi chiedevo l'umanità e voi siete state disumani sai quante persone abbiamo come frappi hai detto in quel momento ero io mia figlia la mia tragedia era a casa mia io volevo solo umanità da parte vostra dobbiamo veramente pregare 5 minuti a vista 5 minuti non ti guardano neanche in parte la disumanità proprio nell'ambito dell'oncologia è terribile se il medico non lo fa per passione per carità per evocazione se lo fa per soldi ecco ma comunque l'oncologia è in più ma vi faccio vi faccio un esempio no vi faccio un esempio di medico che lo faceva perché era medico San Giuseppe Moscati quando lui a casa sua lui era ricco aveva la casa i quadri era un nobile in qualche modo quando riceveva le persone che venivano dal sud e da tante parti che erano povere spesso lui diceva che la guarigione era che gli dava i soldi e si andavano a fare a spesa per mangiare e lui si vendeva anche i quadri per dargli i soldi quindi lui era medico perché capiva che Dio gli aveva dato il dono di essere strumento per dare la vita la vita in abbondanza e per far quello si vendeva pure i quadri perché è un quadro è meno importante del corpo di una persona certo questo è importante non c'è cosa creata che è più importante del corpo umano ma a parte il corpo infatti succede che la cosa dopo l'anima è la cosa più importante appunto l'umanità è quella di un sorriso di un ammalato di una pacca sulla spalla capito? perché non è solo l'amore l'amore di Dio l'amore di Dio passa per tante cose anche compresi i sorrisi e tutto anche perché voglio dire la mia amica professoressa ha detto noi studiamo nel resto nelle mani di Dio un altro professore come lui ha detto io sono solo all'allungamento e la mano di Dio cioè non ho pagine esatto allora vi direi quest'altra cosa perché è molto bello in modo tale che alla fine abbiamo fatto tutto qua dice alcune malattie che sono causate da peccati personali ecco questo è molto importante nella guarigione è importante l'autorità di Dio è colui che guarisce sempre guarisce attraverso i medici guarisce attraverso le medicine guarisce attraverso i carismi ma guarisce anche attraverso il cambiare vita per esempio io leggevo questo psichiatra che diceva una cosa molto interessante diceva una persona può fare una giusta diagnosi il medico gli può dare le giuste terapie ma se ad esempio vive in un luogo dove praticamente è inquinato sarà responsabilità di quella persona il medico è tenuto a tagliare le medicine Dio a tagliare l'aiuto ma lui è tenuto a cercare di cambiare luogo perché se io ti do la medicina e guarisci in ospedale poi torni nello stesso ambiente che ha generato la malattia famo come quello te ne vai in montagna a respire poi torni indietro e te ne ripichi il tumore ai colmoni quindi bisogna a volte io chiede anche di cambiare lui per esempio fa l'esempio lui riceveva lui la moglie riceveva in casa delle persone in via terapeutica di guarigione e lui gli dava un programma di vita anche spaccare la legna e tutto quanto perché diceva che anche l'esercizio fisico un medico un psichiatra Kenneth McCall si chiama e lui diceva perché anche l'esercizio fisico in certe malattie è fondamentale e se la persona non lo fa quella è una terapia non è che si scherza quindi in parte c'è il medico in parte c'è la terapia ma in parte c'è pure la libertà della persona che deve voler guarire e deve mettere in pratica quello che serve perché poi un po' di che il medico non ci ha capito niente quindi è molto importante allora alcuni possono essere dovuti a peccati personali non vogliamo dire che ogni peccato personale corrisponde alla malattia o che la gravità della malattia sia in proporzione diretta alla gravità dei peccati commessi dall'ammalato però è fuori di dubbio che talune malattie sono effetti di vizi e di sordini morali ad esempio chi non conosce gli effetti delle malattie venere della droga del fumo degli eccessi del mangiare e del bere anche qui la causa remota è sempre il demonio in quanto queste aberrazioni non sono dei frutti velenosi e mortiferi del peccato originale perché l'uomo ha la tendenza al male è una conseguenza del peccato originale però adesso ha in maniera speciale dopo Cristo ha anche la grazia per resistere alle tendenze al male e vincerle quindi non è abbandonato al male anche a mangiare eh? anche a mangiare tanto su tutto su tutto di per sé di per sé mangiare in maniera disordinata o bere in maniera disordinata è una cosa che allungantare può portare malattie considera che la maggior parte degli infarti e delle malattie che ci stanno perché si mangia male ma non solo perché si mangia male magari perché mangi troppo o mangi cose sbagliate ma a volte anche perché il mangiare che compri non è il germino come dovrebbe essere basta vedere il pane a volte il pane a volte sembra che da quello che ho visto in televisione ha delle cose che se uno pensa che va a comprare il pane perfettamente buono invece a volte non è così io sento che viene importato per altre nazioni sì sì ci sono tante tante cose no? però ecco quindi ognuno nel suo ruolo deve prendersi le sue responsabilità per fare quello che vuole Bio anche Gesù qualche volta mise in correlazione si scongela e dire prodotti importati sì sì ci sono tanti prodotti importati oppure che non se ne sa la provenienza a volte adesso stanno cercando ma insomma non è una cosa facile anche Gesù qualche volta mise in correlazione peccato e malattie facendo intendere che queste ultime in questi ammalati avevano un'origine da peccati personali al paralitico che gli calarono dinanzi al soffitto della stanza in cui si trovava dal soffitto della stanza in cui si trovava Gesù come prima cosa disse ti sono rimessi i tuoi peccati a un altro accanto alla piscina di Bezzata dopo avergli restituita la salute fece questa raccomandazione ora che sei guarito attenta a non peccare più affinché non ti accada qualcosa di peggio ecco in questo caso per esempio perché Gesù dice così personalmente non credo che era una malattia naturale credo che era diabolica infatti se vi ricordate Gesù dice quando un demonio esce se poi rientra rientra con sette peggiori allora io penso che questa malattia aveva un'origine diabolica e quindi era molto legata anche al peccato che significava che se un demonio è andato via e tu lo fai rientrare poi il tuo comportamento poi te ne trovi sette quindi è peggio di prima la malattia altrimenti se era una cosa naturale ti tornava la malattia come prima certo invece qua dice è attaccata peggio di prima no? e poi qua dice anche chi mangia e beve indegnamente il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna non discernendo il corpo del Signore perciò tra voi molti sono ammalati e infermi e molti altri sono morti questo pure è importante no? per questo dico le disposizioni con cui si riceve per esempio la comunione cioè di ora di rigiuno la stare in grazia e sapere discernere che il corpo del Signore tu stai ricevendo il corpo del Signore non è che sta ricevendo una gomma americana ecco a queste cose servono per ricevere bene il corpo del Signore che è il corpo di Cristo risorto affinché sia interresurrezione guarigione e tutto no? vabbè qua dice altre malattie sono conseguenza di peccati altrui chi può negare ad esempio le tare ereditarie chi non è convinto come certi vizi e risortini morali dei genitori si ripercuotono sulla salute dei figli per più generazioni ma anche al di fuori delle immisorabili leggi dell'eredità dobbiamo tenere presente che formiamo tutti un corpo sociale e quindi il bene come il male che in un solo membro non può non influenzare il resto del corpo beh io non sono un medico però per esempio è una cosa da quello che ho potuto vedere accertata che ci sono certe famiglie dove sembra che certi grappoli di malattie sono più frequenti per esempio conosco delle persone che dove per esempio è terribilmente presente l'Alzheimer invece gli altri hanno una capoccia che a cent'anni ancora fanno i conti matematici però quando si parla dei tumori è una cosa quattro persone tutte magari morte tutte dei tumori allora adesso lo studio della scienza sta spesso arrivando anche a guarire ciò che sono cose che avvengono a livello genetico genetico perché genetico credo che significhi che c'è una predisposizione poi non è che è matematico però è una predisposizione per questo l'alimentatore se uno non è diventato così perché stava sempre che ne so ambriagasse se lui rinuncia magari a ambriagasse magari non c'è male con il nome allora sentite questo paragrafetto poi finimo perché questa è veramente musica bellissima allora Dio ci libera dalle malattie la promessa del Salvatore Gesù dopo il peccato originale è una promessa di liberazione di tutte le conseguenze provocate da quel peccato a tutti i problemi nati da quella fatale caduta Dio Padre risponde con l'incarnazione del verbo di Gesù l'Apostolo Giovanni dice il figlio di Dio è venuto per debellare le opere del diavolo ecco qua partimo se il figlio di Dio è venuto per debellare le opere del diavolo visto che la malattia e la morte sono un'opera del diavolo per il peccato originale anche la malattia e la morte Dio le vuole debellare perché sono opere del diavolo questo è qua proprio non c'è stata uscita questa interpretazione perché è chiaro lo insegna la Chiesa che la malattia e la morte non sono è debellata attraverso la preghiera i medici tutto quello che Dio ha insegnato ora dal momento che queste opere si manifestano nell'anima dell'uomo col peccato e nel corpo con le infermità ne segue che il padre mandò il figlio a liberare tutto l'uomo e non parte di esso dal dominio di Satana il demonio doveva avere una sconfitta completa come aveva avuto prima una vittoria completa cioè il demonio è riuscito a far cadere ad Amedeva a far entrare la morte e il peccato e le malattie e Cristo se doveva vince doveva vince tutto quello che aveva fatto al demonio non soltanto le cose dell'anima e qua questo passo è veramente meraviglioso finiamo con questo Egli venne Gesù venne per operare una nuova creazione dove non ci sarebbe stato più posto per nessuna opera di Satana venne per liberarci da tutte le nostre infermità da quelle spirituali prendendo su di sé i nostri peccati da quelle fisiche caricandosi delle nostre malattie la frase precisa è sentite Egli si è addossato ai nostri dolori e si è caricato alle nostre infermità allora sentite che meraviglia questo è il decreto che Gesù ha firmato della liberazione sentite se prendendo il peccato su di lui Gesù lo ha tolto da noi perché se da noi è nato su di lui si è tolto da noi no? se io faccio un peccato mortale mi vado a confessare dato che Gesù ha preso su di sé i peccati il peccato va su di lui e da me si leva semplice poi Gesù che cosa fa? dato che sulla croce prende tutti i peccati poi Gesù muore morendo lui muore pure il peccato Gesù però risorge e il peccato invece è morto certo non è che risorge perché risorge Dio e chi sta col Dio ma il peccato non sta col Dio questo è l'altro confondo però è il fatto della pena che per gli animali allora il Signore non ha soltanto affrontato il peccato ma anche la pena del peccato non a caso le pene dei peccati si possono sciogliere attraverso atti di amore le remossine si dice nella scrittura sconta i tuoi peccati con le remossine e sconta le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti poi si acquisisce no come indulgenza no come si acquisisce la carità di Cristo che opera in te ti fa meritare la sua carità ti fa meritare anche lo scioglimento delle pene infatti esiste l'indulgenza plenaria che significa la dimissione di tutte le pene quando un cappellano viene chiamato al letto di un morente se ci sono le condizioni il cappellano può dare in articolus mortis l'indulgenza plenaria a chi sta per guardare c'è proprio peccato certo perché no dice proprio c'è proprio la preghiera in virtù della facoltà data della sede apostolica ti concedo l'indulgenza plenaria e la dimissione di tutti i peccati nel nome del padre la preghiera è lo spiego santo ma certi sacerdote non no 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 allora l'unzione degli infermi diciamo i parenti sono sempre tenuti a chiederla perché sta in pericolo praticamente di morte ma l'unzione degli infermi si può chiedere per qualunque malattia seria dice il rituale dell'unzione degli infermi la parte dice malattia seria non grave seria e quello per guarire ma quando c'è il momento del passaggio ogni sacerdote ha la facoltà di dare l'indulgenza plenaria e la misura di tutto quanto proprio perché è facoltativa no la facoltà significa il potere di farlo sì non è che è facoltativa no no non è facoltativa si deve dare sì sì si deve dare perché la cosa importante è l'unzione degli infermi e la comunione però l'indulgenza va data perché è una carità enorme verso la persona cioè quello significa che se la persona dovesse andare al purgatorio se tu gli danni gianta non ce va mica se scherza qua se scherza e questa è l'autorità l'autorità di guarigione di Cristo che è partecipata ai vescovi e ai sacerdoti ma è Cristo che fa questo attraverso i sacerdoti è l'autorità di Cristo partecipata ma la autorità è di Gesù allora sentite che meraviglia allora se il peccato va su Gesù e si eleva da me questo vale anche per le malattie perché si dice si è caricato le nostre malattie allora Signore Gesù ma se tu te sei caricato dalla malattia mia com'è? sta in me? no? perché prima di tutto bisogna saperlo e crederci allora io scherzando l'altro giorno quando ho letto sta cosa ho detto sarebbe interessante dialogare con la malattia e dire proprio San Francesco la chiamava sora morte sora malattia no? digli proprio è cara sora malattia no? forse forse nessuno ti ha evangelizzato e te l'ha detto perché non sei un essere umano le cose te le dovremmo dire no? allora io ti volevo annunciare che tu non ci puoi stare in me perché Gesù si è caricato delle mie malattie quindi adesso te ne vai nel nome di Gesù te ne vai vai su Gesù e lui ti distrugge nella sua morte come avvenuto già perché Gesù ha detto sulla croce tutto è compiuto tutto è compiuto significa tutto redenzione dei peccati delle bene di tutto allora questa è forse una scemenza ma è la verità perché Gesù la malattia della socia del pietro la sgrida cioè gli dice proprio che stai a fare qua vattene perché io mi sono caricato dalle malattie allora le malattie vanno sgridate come ha fatto Gesù l'esempio di Gesù c'è scritto proprio la sgrida letteralmente quindi è una cosa proprio vera perché c'è un decreto c'è una legge che è stata messa nello stato del Gesù che Gesù si è caricato Gesù Gesù ha preso i nostri dolori e si è caricato dalle nostre malattie quindi se lui ha preso i dolori e si è caricato dalle malattie non devono stare negli altri però questo bisogna saperlo bisogna crederlo e bisogna cominciarsi a comportare di conseguenza adesso vi faccio vedere c'è anche le malattie degli altri essendo un figlio del nopoto può una chiedere di caricarli no 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 non è che Gesù si è caricato di tutte le malattie da Anamo fino all'ultimo uovo che esisterà io lo posso chiedere per me e per qualunque persona perché nessuna malattia ha diritto di stare nei corpi delle persone visto che si è represe Gesù poi dopo arriviamo a spiegare perché Dio può permettere che ci sono però questo è il decreto allora quando voi sapete che a livello civile il Parlamento fa la legge però finché non va sul gazzettino ufficiale non è ufficiale quindi finché non ce va io pure se so la legge che mi arriva da voce da legge ma io se la trasgredisco non è mancanza contro la legge però una volta che è dichiarata la legge tu diventi trasgressore allora una volta che Gesù è morto in croce ha fatto un patto l'ha firmato col sangue e ha detto le malattie devono andare su di me e non sull'altro io alla mattina gli posso dire guarda che o te ne vai o chiami i poliziotti capito? chi so i poliziotti sono il nome di Gesù cioè tu il nome di Gesù dice adesso tu obbedisci alla parola di Dio che dice il decreto è uscito la sua gazzetta ufficiale c'era e tu vai praticamente dove devi andare prima però lì che vada il secondo tumore c'è l'ecisione quando continua a permettere l'ecisione no no adesso andiamo qui a spiegare però io vorrei che fosse importante che si capisce il decreto questo è il decreto il decreto è che Gesù si è preso le malattie si è addossato i dolori e vi dico quel passo il passo è Isaia 53 4 si è addossato i nostri dolori si è caricato dalle nostre malattie cioè questa è legge però voi sapete che un ladro si entra in casa e tu ha legge e non gli ha ricordi in vari modi e il ladro ti dice finché non mi dichiari la legge a me mi rubo e e dato che il demonio è chiamato ladro e unicidio fin da principio bisogna un'autorità ricordare che ha la legge mentre i ladri di casa se non c'è la polizia non ha chiappi invece qua in ambito spirituale funziona perché tu spiritualmente gli dici cara sorella malattia io ti consiglio una sorella però tu Gesù ha detto che devi andare a essere carica quindi adesso cara sorella basta vai nel nome nel nome di Gesù l'unico nel nome e non nel nome mio perché io non conto nulla come gli disse il demonio come gli disse il demonio il demonio ai discepoli negli atti di apostoli quando volevano cacciare i demoni gli disse io conosco Paolo e conosco Gesù ma poi mi conosca la confede e botte perché non aggirano nel nome di Gesù però quella frase che poi agisce un po' come la cucina cinese completo nella mia carne come è quello che manca la passione di Cristo no? che poi c'è l'accusatore che ti dice eh però Gesù ha sofferto devi soffrire pure te hai capito? la risposta è chiara allora questa cosa qui che è giusta infatti prima dicevo l'equilibrio fra il valore della guarigione e delle sofferenze offerte della salvezza questa cosa qui ordinariamente si può accettare solo dopo che si è fatto tutto il percorso di guarigione allora vuol dire che la legge che è uscita sulla cazzetta per Gesù c'è un'eccezione alla legge generale la legge generale è quella ma per quel comune c'è un'eccezione ma deve essere prima messa in pratica quella generale poi ci sarà l'eccezione invece il problema è che il demonio ti fa credere che l'eccezione è quella generale e allora tu manco vuoi guarire perché dici mi sembra pure una mancanza infatti questo è lo stato generale del cristiano di oggi che ha avuto questo indottrinamento no ma per questo ma per questo scusate ma guardate l'unzione degli infermi l'unzione degli infermi era arrivata al punto che si dava solo in punto di morte certo poi il concilio lo spirito santo ha detto rimentiamo le cose il principio generale è la guarigione certo poi se è il momento di partecipare alla passione di Cristo per morire benissimo anche lì Dio ti aiuterà ma quella è l'eccezione che conferma la regola ma non è che sembra che è un peccato pregare la guarigione anche perché se io non ci credo neanche lo voglio guarire perché appunto non lo so che Dio vuole questo quindi neanche lo voglio io certo che ore so? tu ti posso di notte 18 ok sì sì noi ma che ma anche sappiamo che cioè praticamente possono stabilire e stabilire dal fatto che la natura è contaminata no? quindi noi dovremmo anche essere che lo so educati a rispettare la natura certo infatti il Papa nell'incidica sull'ambiente ha detto per quello che dicevo prima dipende dai medici ma dipende anche da altri fattori e il Papa ha detto che il rispetto dell'ambiente di dove si vive facevo l'esempio prima no? tu vai in montagna te ripigli dai problemi ai pormoni poi torni che ci stanno inquinamento da ora e ti riammali dopo un mese no? è certo perché Dio ci ha affidato all'uomo gli ha affidato tutti i talenti tra cui la creazione nella creazione è una cosa straordinaria quante cure esistono a livello erboristico Dio ha dato negli elementi se uno li scopre non sa quanti tipi di guarigioni di cose no? però purtroppo l'inquinamento anche l'inquinamento elettromagnetico è qualcosa di veramente io ho la zona dove abito io non è pericoloso magari per la salute però una volta venne uno a riparare il televisore gli disse a mia madre dice oh ma qua si accende da solo il televisore dice ammazza c'è stato un inquinamento abbastanza non era magari pericoloso però mi disse insomma non era normale però come cosa cioè era oppure le polveri per esempio ci sono dei quartieri che hanno una quantità di polveri nell'aria enormi allora esistono anche i peccati esistono anche i peccati contro la creazione no? perché la creazione è fatta da Dio quindi un conto che io uso la creazione come vuole Dio ma se io in maniera spropositata in maniera sbagliata me ne frego mi metto in quina i fiumi è certo che diventa un peccato certo può essere un peccato o può essere pure grave dipende dal danno anche che faccio da quello che faccio finiamo con questa cosa questo è l'esempio migliore di tutti come si comportò Gesù con gli ammalati ecco Gesù è la verità vediamo come si è comportato Gesù Gesù anche a San Paolo gli ha detto ti basta la mia grazia ti è terra sfina ma è un'eccezione rispetto a tutte le altre volte che ha sempre guarito Gesù questa è la verità la legge sulla gazzetta ufficiale è la guarigione poi per certi comuni per certi esseri umani c'è un motivo di santità e allora c'è la partecipazione ma la partecipazione alle sofferenze in maniera speciale ordinariamente si partecipano alle sofferenze con la vita ordinaria i doveri quotidiani le cose che dà ogni giorno Dio da affrontare poi partecipazioni speciali alla sofferenza sono delle chiamate speciali ma sono speciali però come chiamate non è che ogni volta che uno sta male perché se tu non hai provato prima tutta la cosa della guarigione nella legge prima non puoi dire che entri in vigore la legge quella speciale ma se ne hai messo in pratica manco quella generale allora il demonio fa praticamente questa fregatura fa credere che la legge speciale è quella generale a nessuno di quelli che si rivolse da lui per la guarigione Gesù disse accetta la tua malattia come una benedizione di Dio o come un segno di predilezione del Padre egli invece guarì tutti considerando le loro infermità come mali da eliminare come nemici da combattere non troviamo nel Vangelo che Gesù tentò di persuadere qualche ammalato a fare la volontà di Dio è vero questo non disse ad alcun ammalato questa malattia deve tenerla per la gloria di Dio anzi disse il contrario che cioè il Padre sarebbe stato glorificato dalle guarigioni che gli avrebbe operato questa parte è una bomba sentite perché è proprio letterale e biblico dinanzi al cieco nato agli apostoli che gli chiedono se è lui che ha peccato con i suoi genitori Gesù risponde né lui né i suoi genitori hanno peccato ma è così perché si manifestano in lui le opere di Dio bisogna che si compiano le opere di Dio finché è giorno e qual è l'opera di Dio che compirà in questa persona sentite dunque opere di Dio erano non la cecità di quel mendicante ma la sua guarigione bisogna che è così perché si compiano in lui le opere di Dio e l'opera di Dio sarà la guarigione che Gesù darà le altre opere della malattia è opera del demonio non è di Dio questo è biblico c'è una cosa pazzesca questa è proprio la chiama proprio opera di Dio Gesù un altro esempio l'abbiamo nel paralitico di Cafarno il quale si mise a glorificare Dio non sul giaciglio ah no cosa devo leggere un altro esempio l'abbiamo nel paralitico di Cafarno il quale si mise a glorificare Dio non sul giaciglio quando lo talavano dal tetto ma dopo che fu guarito cioè la glorificazione non è stata sto sul letto paralizzato la glorificazione è stata so guarito e subito egli si alzò in presenza loro e preso il suo giaciglio se ne andava a casa glorificando Dio ma dopo però e con lui glorificavano Dio anche i testimoni del miracolo tutti furono presi da grande stupore e glorificavano Dio ripieni di timore e esclamavano cose mirabili che abbiamo veduto oggi un'ultima conferma la troviamo nella vicenda di Lazzaro Gesù informato della malattia dell'amico dice che quella malattia non era di morte ma per la gloria di Dio affinché ne venisse glorificato il figlio la gloria di Dio non era dunque la malattia come dice Gesù ma quel che sarebbe accaduto dopo la malattia infatti alla sorella Marta ripete non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio e qual è la gloria di Dio che ha visto quando ha creduto la guarigione Marta non aveva visto la gloria di Dio durante la malattia del fratello ma l'aveva vista quando egli sarebbe uscito vivo dal sepolcro dunque non sono le malattie che danno gloria a Dio non risultano i Vangeli che Gesù abbia insegnato questo sì scusami Roberto allora però c'è qualcosa che inquadra perché se la malattia dipende esclusivamente dal diavolo dei suoi adetti allora perché ci sono vari casi in cui nonostante tutti gli sforzi molte persone insomma non guariscono da un punto di vista fisico allora poi ci arriveremo perché stamattina abbiamo fatto soltanto la parte diciamo negata perché poi qua dice alcune vincesse il demonio no no poi dopo lui comincia a affrontare le varie obiezioni infatti le fa una per una no no io l'ho detto bisogna ma io l'ho detto è un punto di vista fisico bisogna allora bisogna bisogna allora ricordiamoci ricordiamoci sempre questo il demonio se non vuole Dio non si può manco muovere dovrebbe no dovrebbe è così allora perché è importante che una persona quando sta male faccia prima è tutta la parte che abbiamo detto perché solo dopo che ha fatto quella parte se gli rimane la malattia può dire questa è la partecipazione alle sofferenze di Cristo certo altrimenti potrebbe essere che non è è sempre partecipazione alle sofferenze di Cristo perché se tu occhi la sofferenza con Gesù Dio l'accetta sempre e tutto non è che però Dio potrebbe anche dirti figlio mio va bene finché sei malato offrimi le tue sofferenze io le accolgo e ti sto vicino e soffro in te però perché non credi se io ti ho fatto capire di pregare per la guarigione perché non credi che io ti possa guarire la suor Meckenna faccio un esempio concreto suor Meckenna è questa suora che ha carisma di guarigione fortissima adesso è una suora irlandese lei mi pare che stette in carrozzella per un periodo proprio san malò però lei non pregava per la guarigione perché praticamente gli sembrava una superbia e poi come dici tu perché diceva beh offro le sofferenze poi un giorno successe che lei comprese lo testimonia che lei in realtà non pregava per la guarigione non perché la riteneva la volontà di Dio la malattia e quindi la viveva come comprendimento della passione ma perché in fondo in fondo non ci credeva che Dio la potesse guarire infatti l'ha guarita l'ha guarita poi un giorno mentre stavo davanti al Santissimo gli ha detto ti ho donato il carisma di guarigione lei dice mamma mia che superbia questa è proprio una tentazione terribile mamma mia che cosa avrei di conto che presuntuosa poi il Signore che agisce attraverso i fratelli e le sorelle andò a una messa una mamma c'era un bambino malato e gli disse ti prego prega per lui pregò e guarì il bambino allora le sofferenze e la partecipazione alla passione di Cristo è una verità di fede e va amata come va amata la guarigione per carità però per essere certi che quella è sofferenza e partecipazione alle sofferenze di Cristo volute da Dio bisogna v'ho detto prima conosce la legge generale e applicarla poi se Dio ha deciso che nella tua vita va la legge speciale per carità se è un comune a parte sempre che fa parte dell'Italia quindi non c'è niente di male ci sarà un motivo come in montagna ci sono certe leggi speciali o al mare così c'è un motivo però io e qui sto annunciando questa cosa perché ritengo di un'importanza enorme conoscere questo decreto di Dio firmato sulla croce perché se non si conosce non si può neanche mettere in pratica e dato che io vedo tanti malati e tanti a volte il mio dolore non è solo perché sono malati ma perché vedo che non c'è neanche una predisposizione a poter attecchire con la grazia perché proprio sembra proprio che neanche ci pensano che Dio li può guarire sicuramente quindi tutta sofferenza inutile no evitare o ce n'è niente bravissimo no no finiamo con questa cosa perché è importantissima allora questa potrebbe essere tanta sofferenza evitabile ma nessuna sofferenza è mai inutile perché comunque se anche se uno si sbaglia e offre le sofferenze a Gesù Gesù le rende utili e fruttuose quindi offerta offerta Don Carlo Gnocchi diceva che lui insegnava ai bambini piccoli la sofferenza perché diceva il dolore non è soffrire ma è sciuvare la sofferenza perché non la offri allora nessuna sofferenza è mai inutile ma se non la offri non sei consapevole sì però la può offrire un altro per te ah ecco la può offrire no però nessuna sofferenza è inutile ma molte sofferenze sono evitabili allora io per quello che posso come sacerdote annuncerò le cose del Vangelo affinché se eviti il più possibile ma non perché non si vuole fare la volontà di Dio ma perché credo che Dio si manifesti con la sua potenza in tutto il mistero pasquale quindi sia nella crucifissione ma anche nella risurrezione il mistero pasquale non è fatto soltanto dalla passione ma è fatto pure dalla risurrezione sono incompleto ok possiamo finire credo perché sono 11 o 11 sì perché io ne devo andare diciamo la preghiera sì devo andare a polistica quindi faccio il tempo dopo io le so precise prego aspetta nome del padre dei figli e dello spirito santo amén spirito santo tu hai annunciato queste due verità adesso ti chiedo la grazia che tu ce le faccia comprendere bene ce le faccia sentire profondamente nell'anima e tu attraverso il tuo amore le confermi le manifesti affinché si possa conoscere che Gesù è il Signore si possa conoscere che nel suo nome ogni ginocchio si piega nei cieli sulla terra e sotto terra il ginocchio anche di ogni infermità e dolore perché si possa conoscere che Gesù è il Signore e lui si possa esaltare possiamo esaltarlo proprio come il Signore e come Salvatore Salvatore dai peccati e anche da tutte le malattie e da tutti i dolori chiedo che adesso lo Spirito Santo ci benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ok pace grazie la prossima volta facciamo le varie obiezioni perché vi dico soltanto questo vedete che è bella vabbè la prossima volta no no è bella però è molto troppo tempo lui dice per esempio Gesù dice chi non prende la sua croce e mi segue punto aspetta diciamo una precisa non ci risiediamo perché è troppo allora lui qua dice allora for me via ecco Gesù dice chi vuole venire chiedere a me ne chi se stesso prenda la sua croce e mi segua e lui dice una cosa molto bella se Gesù ci invita a prendere la croce la considera come qualcosa esterno a noi che la malattia non è che ce l'hai in sul corpo non è che la devi prenderla allora se la devi prendere la croce vuol dire che è qualcosa di esterno quindi non è la malattia infatti lui dice per croci qua si deve intendere le persecuzioni incomprensioni lotte opposizioni delusioni amarezze contrarietà il peso dei doveri quotidiani l'immolazione della vita minuto per minuto sull'altare della volontà di Dio la loro somma è la croce d'impero discepolo Gesù ci invita a prendere la considera come qualcosa che non è noi ma viene dal di fuori e a prenderla ogni giorno come qualcosa che non può mancare mai nei nostri continui rapporti con gli altri ma questo non si può dire delle malattie perché la malattia a volte manca allora che vuol dire che per un sacco di tempo non c'è la mano la croce quindi non è così sviluppare questo sviluppare un po' meno la prossima volta comincieremo da questa cosa però è molto interessante grazie a tutti